Tra il 1873 e il 1876, Nietzsche scrive le considerazioni inattuali, ovvero quattro punti dei quali intende criticare la cultura ottocentesca. Questo perché Nietzsche è veramente un profondo critico della cultura occidentale, anzi, parla proprio di un aspetto di inattualità che c'è in questa cultura e vi leggo proprio le sue parole. Inattuale è questa considerazione perché cerco di intendere qui come danno, colpa e difetto dell'epoca qualcosa di cui l'epoca va a buon diritto fiera, la sua formazione storica. Quindi in qualche modo il danno dell'Occidente è quello di vantarsi della propria formazione storica. Nietzsche però, attenzione, non ci dà un atteggiamento alternativo a questa considerazione inattuale, anzi, lui si appella semplicemente a quelle che sono le forze creative, la potenza che l'uomo conserva dentro che lo deve portare all'acquisizione di un futuro e di un presente principalmente. Invece, purtroppo, dice il filosofo, la nostra cultura, la sua chiaramente, soffre di questa malattia, la malattia storica, una malattia i cui sintomi sono proprio l'idolatria del fatto, il fatto di condurre sempre questo legame eccessivo con il passato. Ecco, che cosa si intende con il termine idolatria del fatto? Idolatrare significa venerare, venerare un fatto, un evento senza potersi sganciare da esso. Quindi qual è poi la naturale conseguenza di questa formazione storica della quale l'Ottocento si vanta? Il fatto che l'uomo perde, perde perché deve concentrare, deve limitare, reprimere, quella forza creativa. Perché? Perché la storia pesa, la storia ha un passato, è passato, la storia pesa, è un fardello e l'uomo si sente imprigionato in questa storia, di conseguenza non si sente più protagonista neanche del proprio presente. Allora, cosa deve fare l'uomo, secondo il filosofo, per sganciarsi, per curarsi, per guarire da questa malattia mortale, da questa malattia proprio che è la malattia storica? Principalmente deve sottrarsi, ecco, al passato dimenticandolo, l'oblio. Nietzsche parla di un oblio, di una dimenticanza. Però attenzione, la storia è importante. Semplicemente il filosofo ci chiede di modificare la prospettiva. Non è la storia che in qualche modo deve pesare sull'uomo, cioè l'uomo non deve servire la storia, ma è la storia che deve servire l'uomo, la vita. E quindi la prospettiva è pensare che la storia da sé sia come un'entità che ha già determinato il futuro degli uomini, un futuro che pertanto, pertanto, siccome era così grande, probabilmente non potrà più ritornare. Ecco perché l'uomo si sente in gabbia. Allora, da queste considerazioni ci sono degli atteggiamenti che scaturiscono, cioè in che relazione stanno uomo, individuo e storia. Noi abbiamo sostanzialmente tre modi per gli individui di condurre questa relazione con la storia. Il primo modo è quello che chiama in causa un uomo ambizioso, che proprio ha voglia di essere attivo all'interno della storia. E a questo modello, questo modello di relazione tra individuo e storia, corrisponde la storia monumentale, che vedremo tra breve. Poi c'è una seconda modalità di relazione, ovvero il venerare, il conservare la storia. Questo atteggiamento corrisponderà alla storia antiquaria. Ma poi abbiamo anche un terzo modello, quello dell'uomo che, sentendo il peso nei confronti di questo passato, se ne vuole completamente liberare. Ed ecco che abbiamo quindi la storia, il passaggio alla storia critica. Andiamo ad analizzare proprio queste tre tipologie di storia. La prima è la storia, abbiamo detto, monumentale. La storia monumentale è quella storia che è tipica di chi guarda il passato per cercare modelli che non riesce a trovare nel presente. E quindi colui che ammira le grandi opere, colui che ammira i grandi monumenti e legge nel passato la possibilità, ecco, di fare ritornare quella grandezza. E in questo rivela un'ambizione. Qual è però il limite di questa storia? È quello di creare un mito. Un mito che pur di riproporre quel passato grandioso, tende a modificare la storia, revisionarla per far coincidere tutti i punti che servono per guardare al passato con una certa, come dire, con una certa forza, con un certo rispetto, con un certo onore per poterlo riproporre poi nel futuro. E quindi molto spesso sì, il fatto viene distorto. Ecco, come dicevo prima, revisionato, che è un termine probabilmente più appropriato. Come conseguenza il fanatismo, per esempio, è tipico di coloro che hanno questo atteggiamento nei confronti della storia, un atteggiamento monumentale. Ma poi abbiamo una seconda tipologia di storia, la storia antiquaria. Lo dice il termine stesso. Chi è l'antiquario? L'antiquario è colui che veglia sulle reliquie storiche, colui che colleziona queste reliquie, colleziona tutto ciò che ha un legame con il passato. Qual è il suo atteggiamento? Appunto, preserva, venera. Magari si sente anche parte di un'eredità grandiosa, di un popolo particolare, appunto, di una memoria storica, il cui però danno, secondo il filosofo, è quello di mummificarci, di cristallizzarci all'interno di un passato che nega inevitabilmente proprio la capacità di agire, quell'ambizione di ripercorrerle poi queste grandiosità nel futuro. Per cui io guardo un passato, lo rispolvero, lo ripulisco, proprio come fa un antiquario, lo venero, ma questo mi blocca proprio nel passato, senza poter in qualche modo far emergere quelle potenzialità che io ho. Poi abbiamo il terzo modello di storia, la storia critica. La storia critica è una storia che intende, come dire, tagliare i ponti col passato. È il tipico atteggiamento nei confronti della vita di chi vuole proprio eliminare ciò che è stato. La storia antica prende il passato e lo porta davanti al tribunale. Il tribunale che giudica questo passato, questa storia e che quindi non lascia nulla di ciò che è stato. Nietzsche però ci dice che non c'è una tipologia di storia che vada ad hoc, che sia perfetta. Dobbiamo armonizzare fra le tre, perché è vero che bisogna avere il coraggio di mettere in gioco le proprie forze, però ci dice anche che è pericoloso allontanarsi dal passato. Così come pericolosi sono tutti quegli uomini che, di punto in bianco, da un giorno all'altro intendono proprio giudicare, contestare ed eliminare quasi la storia. Questo perché, dice Nietzsche, noi dobbiamo ricordare sempre che siamo figli del nostro passato. Noi siamo figli del nostro passato, degli errori, della deviazione che ci sono state anche in questo passato e quindi siamo immancabilmente figli della storia. Però attenzione, questi uomini che giudicano il passato e che quindi vogliono in qualche modo eliminare quella storia, che sono sempre pericolosi, si contrappongono invece a quegli uomini che esprimono una volontà per il futuro, una volontà che gli fa scoprire che in realtà quel futuro che loro vogliono vedere era già, era già nel passato. Però se l'uomo non desidera, se l'uomo non ha questa volontà di futuro, allora ecco che si ripiega su se stesso e immancabilmente il peso della storia comincia proprio a schiacciarlo. Il risultato è proprio il guardare alla storia con quell'occhio malinconico sapendo che quello che c'era di grande è già accaduto e non tornerà mai più.